Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei... Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Sta bene? Tenga duro, torno subito. Non muoversi, o sparo! Ma che... Attenzione a tutti i cittadini! Tutto questo è assurdo! Merda! Tutti! Si sono trasformati tutti! Oh, finalmente! La centrale! Oh, non lo so! coraggio cristo aprite vi prego aprite aprite questa cazzo cristo sono ovunque qualcuno sa come è iniziato non è così che immaginavo il primo gioco è è è è è è Grazie. 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 Spero di non doverci scrivere un rapporto. Sì, sì. 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 . Sì. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, non va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.